ma buonasera buonasera buongiorno buon pomeriggio amici miei tanto che ci vedevamo allora no non sto partendo non sto partendo no non pensate che sto andando chissà dove è solo un video visto che l'ultime dall'ultimo diciamo riguardante il mondo camper è parecchio che non che non viene fatto e beh dico un po' quello che ho fatto le piccole modifichette piccoli aggiustamenti che servono per le nostre esigenze diciamo così e niente momentaneamente mi sto regando dal carrossiere perché gli voglio far collegare una cosa ma lo faccio fare a lui anche se potrei farlo da solo però questi giorni sto a fare un po' dei giretti delle cose preparazione per forse le possibili vacanze se riusciamo magari metà a settembre non lo so perché organizzare giorni di ferie non i miei ovviamente ragazzi lo sapete che io ormai sto in pensione ma te vi moglie e i miei figli cioè fargli combaciare tutte e tre insieme il periodo di ferie non è una cosa facile ma vediamo forse quello è un periodo dove potrebbero riuscire tutti e tre a trovare magari una settimanella per farsi qualche giorno non magari chissà che cazzarola di viaggio che devi fare ma più che altro per loro perché hanno pure bisogno insomma di spensare un po' mentalmente discorso lavorativo e discorso routine casa lavoro non so se metto questo o no anche perché insomma hanno lavorato senza un giorno di sosta a parte che potrà essere magari la domenica di siano perché lavora qui la domenica che è l'altro dei giorni però diciamo una pausa ci vuole per tutti e vediamo un attimino vado al carrossiere perché voglio fargli montare questa come vedete è una barra led io ne ho montata una davanti con gialla quindi fendinebbia per quanto capiterà di essere in giro con con la nebbia ma ne voglio mettere una dietro in aggiunta alla luce della retromarcia però siccome voglio evitate fa qualche pecionata magari a fabbuchi troppo grossi o cosi o comunque bisogna infilarsi sotto per far passare bene i cavi dietro al paraulto e arrivare al fanalino lo faccio fare a lui così mi fallo a un rettino più pulito visto che io se no mi dovrei sdragliare a mezza strada non c'ho il cric per tirare su il camper una cosa e l'altra preferisco fare una cosa fatta bene ecco il carrossiere è chiuso e ci ripasso un altro giorno probabilmente ancora chiuso per ferie perché non è l'orario di chiusura dell'officina ma sicuramente ancora sarà chiuso per ferie come il meccanico che sicuramente riapri al lunedì vabbè allora ci spostiamo sperando di trovarlo aperto dal tappeziere perché ho i cuscini della dinette quelli praticamente dove ci sediamo quella della dinette grande ma solo la seduta che ovviamente sono sicuramente stati usati di più rispetto a tutti gli altri e se sono un po' schiacciati e siccome io ho il culetto secco secco e delicato quindi io voglio far cambiare la gomma piuma per farla tornare non so non l'ho misurata quell'arte quanti sono 7 8 10 centimetri io la voglio far cambiare se lo trovo aperto se non lo trovo aperto mi tocca ritornarci se no dovrei andare da resi in gomma resi in gomma è una fabbrica che è una quindicina di chilometri da casa mia più o meno che fa questi lavora questi materiali la gomma piuma e l'altro c'è l'attice che altri tipi di materiali che usa e tutto anche su misura taglio come vuoi nell'arco di mezz'ora ovviamente vai la e ti fai il lavoro che ti deve fare subito senza senza farti aspettare giorni e giorni ovviamente c'ha un costo perché io ho fatto fa tempo fa quattro pezzi di gomma piuma spessore 10 in totale di lunghezza un'ottanta sui due metri e mezzo due metri e sessanta di gomma piuma spessa 10 ma alta meno di 30 centimetri che era tutto diciamo il bordo della tinetta quella piccola che gli volevo far fare diciamo un tipo braccioli e lo schienale ovviamente l'ho dovuto fare intorno ai 30 centimetri perché sennò mi andava sopra l'oscurante però diciamo un appoggio per la schiena solo quelli mi sono costati mi pare 90 euro i quattro pezzetti ma senza fodere senza fodere solo la gomma piuma tagliata a misura ci hanno messo cinque minuti e ovviamente ho preso quella diciamo più costosa che era quella più dura la pare spessa 10 centimetri però insomma 90 euro giù pezzetti di gomma piuma però eh vabbè regà il pezzo era quello e l'ho fatto qua poi l'ho portati da questo tappeziere a far foderare perché le ho fatti foderare dal tappeziere perché quando ho cambiato i materassi ai ragazzi perché c'erano ancora quelli originali di gomma piuma con la soffa quella originale eh la fodera del materassi era quella originale come le dinette insomma quello blu Havana grigio quel coso là li ho recuperati eh l'abbiamo lavati ovviamente e poi io l'ho portati al tappezzetto e ho detto guarda se ce la fai recupera quello che puoi recuperare e mi ci foderi questi quattro pezzi di gomma piuma e me l'ha fatto me l'ha fatto me l'ha foderati eh vi dico regà che si è preso 20 euro quattro cuscini e me ci ha messo pure le chiusure lampo quindi potete pensare no che se tutto metta a tagliare eh sta soffa prende le misure fa tutto a mano perché loro poi comunque cuciono non a mano con la che filo ma insomma con la macchina da cucina ma è tutto un lavoro manuale praticamente mi si è preso 5 euro a cucina che potete immaginare è proprio niente molto bravo economico non me l'aspettavo una persona squisita bravissima persona disponibile gentile e infatti moce ritorno già un altro lavoro gli ho fatto fare sulla sostituzione di una lampo sempre di uno dei cuscini perché era un po' slabbrata un po' scucita era rotta me l'ha sostituita anche a colore devo dire anche a colore e si è preso 5 euro poi c'è andato mia moglie a riprenderlo il cuscino che io intanto lei stava in giro e ho detto vabbè passa valla a prendere si è preso 5 euro veramente una persona onesta e lavora veramente bene mi è piaciuto mi è piaciuto e ci voglio tornare per fare le sedute dell'atinente sperando che adesso lo trovo aperto e poi vi farò vedere qualche altro un'altra modifica che ho fatto per più per zeus e luna che per me perchè a me sinceramente non è che mi serviva è qua in mezzo tra i due sedili e altre cosette che ho aggiunto che servono a me che ne so il computer l'ho cambiato anzi ancora non l'ho fatto lo devo fare quindi quando vedrete il video o vi faccio vedere mentre lo cambio oppure lo troverete già montato se ho problemi a fare le riprese l'aspirapolvere perchè ho trovato forse il posto da mettere l'aspira a scopa elettrica perchè ho quelli portati manuali ma una rottura di pallo ogni volta metti dentro leva fuori a scatola pieva invece se riesco a metterlo dove ho pensato perchè ancora devo prendere la misura dove ho pensato che rimane sempre a portata di mano come ce l'ho a casa perchè ho una scopa elettrica che avevo comprato per il vecchio camper che ha la basetta dove si aggancia proprio al muro io cancellò la mia stanzetta da pc in più perchè quella di casa sta per casa e se ci porto quella così sta attaccata alla con i suoi accessorietti sempre a portata di mano il filo della corrente perchè va a 220 lo lascerò inserito ad una presa 220 così quando serve basterà accendere o l'invertere o il generatore in base a quello che in quel momento mi vado ad accenne e aspiro insomma utilizzo come aspirapolvere aspirabriciole è una buona scopa abbastanza economica una cosetta da meno di 100 euro un'ottantina di euro ma parevamo pagata non mi ricordo di una buona potenza perchè sono 600 watt aspira bene abbiamo anche i filtri di ricambio perchè li abbiamo ricomprati perchè sapete sono quelli di carta che dopo un po' si rovinano a forza di pulirli insomma la carta si deteriora e quindi li abbiamo ricomprati ma costano una stupidaggine tipo 10 filtri abbiamo trovato il pacco da 10 mi pare una quindicina d'euro insomma quindi sono proprio cifre stupide io ho detto ma vale la pena per quello che puoi per campere ragazzi è un pezzetto da aspirare insomma non è che che sia chissà che cosa eh e invece trovo bene visto che ce l'avevo è inutile comprare un'altra che magari c'è i filtri quelli la mappi lì e la scopa ricaricabile cosa che non ti ha spennare sai che i soldi ce l'ho fino a ora ho usato pure la scopa che è uguale tante volte devi dare un'aspiratina in altre cose va bene e niente dai ci aggiorniamo dopo perchè me lo so sono arrivato devo trovare il parcheggio ok dopo vi faccio vedere un po' le cosette va ciao allora fatto i giretti ma ovviamente come voleva si dimostrare il tappeziere è chiuso adesso sinceramente non so se è chiuso per l'orario o perchè ancora sta in ferie domani tanto mia moglie gira più di me il giorno casomai ci faccio passare lei davanti e vedere se si è aperto o si è ancora chiuso per ferie e magari riapre lunedì vabbè niente al momento allora vado a prendere mio figlio alla fermata perchè sta tornando dal lavoro visto che sto in giro lo vado a prendere e niente così dopo vi faccio vedere quello che vi dicevo prima insomma i piccoli lavorettini e gli accorgimenti che ho messo ok a dopo allora una delle cose che volevo farvi vedere che ho fatto è questa aspettate che girate le camera allora vedete che ho preparato una sorta di botola anche se adesso i bordi li devo verniciare di nero con lo spazio qui per mettere la mano aprire sotto ci ho messo i cavi volendo devo vedere se ne tolgo uno ci metto il tubo dell'acqua il piano comunque rimovibile e ho riempito ovviamente questo ho messo la gomma piuma alla pelle in modo che i cani quando si mettono qua non hanno più il dislivello di 10 cm e stanno sul morbido ho preferito la pelle perchè perchè comunque neanche se è un po' più costosa rispetto a una stoffa o qualsiasi cosa a parte che è un pezzetto perchè comunque è di facile pulizia quindi una passata di pezzi si pulisce e nello stesso tempo non si attaccano i peli come succede già qua sui sedili perchè chi ha animali se sa quindi è un lavoro di meno e diciamo che è venuto una bella cosetta insomma caruccia guardasse anche se ripeto devo fare di nero i bordi perchè così non mi piacciono e soprattutto l'ho fatto con dei ritagli di legno che avevo mi sono arrangiato così l'unica cosa che ho comprato è stato questo piano non perchè non l'avessi ma perchè tutte le tavole che avevo così o anche più grandi erano molto più spesse e quindi non andavano bene e niente questa è una delle tante vediamo anche le altre allora ragazzi la barra che vi dicevo è questa qua una barra semplice una barra led che io voglio mettere sotto la targa lì sopra lato sopra sotto insomma dove c'è posto in modo che quando metto la retromarcia vedo meglio cioè più illuminato tra virgolette non servirebbe nel senso che non serve perchè perchè comunque la telecamera ha i sensori infrarossi anzi le telecamere perchè ce ne sono due quindi si vede lo stesso fuori si vede lo stesso però che cosa succede che se io guardo dagli specchi perchè a volte magari se devo fare una retromarcia una manovra una cosa guardare solo le telecamere non serve magari voglio vedere gli specchietti mi rimane abbastanza buio rispetto a quello che vorrei io invece così dovrei risolvere la situazione poi altre cosine che ho fatto allora le altre cose che mi sono messo sono questi due carica batterie con le batterie e il multiplo la multipla della 12 volt perchè questo è l'unico carica batterie che ho trovato a 12 volt se no erano tutti a 220 siccome io qua ho la 12 volt la 220 ha bella presa per l'antenna allora questo ho usato la multipla per mettere queste due ed attaccare magari che ne so l'aspiratore quello che c'ho a 12 volt qua ci sono anche due usb ulteriori perchè io ne ho messo un'altra la con collegato un po' il tutto come vedete ho messo anche la lucina perchè spesso qua è buio la lucina c'ha la doppia illuminazione ecco è quella col sensore ok ma la utilizzo direttamente dall'interruttore questo è un bel carica batterie costano un pochino stanno circa 40 euro l'uno è un 12 posti ma la cosa bella è che si stacca da solo quando ha caricato le batterie stacca da solo quindi non va avanti a consumare corrente ha anche il pulsante qualora servisse ma non per queste batterie ormai non serve quasi più magari una volta al mese allo scarica batteria e poi lo ricarica questa multipla 12 volt è buona perchè ha i pulsanti per attivare e disattivare le cose quindi teoricamente l'unico consumo sarebbero le lucine a led dei connettori quelli la ma sono consumi stupidi ma in caso si spengono quello è uguale la stessa cosa poi mi sono qui avevo montato il computer quello la stava messo qui faccio vedere stava aia 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 era messo qui dietro al sedile poggiato sopra alle batterie visto che è stata creata la cassettina io ho tolto adesso il computer poi farò vedere il perché e ci ho messo il compressore ne avevo già uno così simile piccolino della fine però era senza serbatoietto aveva una forma diversa poi ormai ci ha parecchi anni quindi ha lavorato parecchio ho ricomprato il compressore con un non so se riesco a farvelo vedere con un serbatoietto da 2 litri e poi avevo questa cinta che avevo messo per bloccare il pc fatalità è perfetta infatti ho scelto questo proprio per per come è fatto quindi va tranquillamente qui al posto del pc non da problemi è bello serrato la corrente ce l'ho qui quella quella presa è collegata sia all'inverter che alla 220 esterna o col generatore all'inverter in realtà ci devo attaccare la spina cioè non è attaccata direttamente se la devo usare con l'inverter attacco la spina se no famo un macello come già è successo e niente questo è l'unico di questa grandezza che ha una potenza di 10 bar almeno così dichiarano se no la maggior parte hanno tutti 8 bar questo ne ha 10 quindi in caso mi dovesse servire per gonfiare una ruota diciamo che c'è un po più di spinta rispetto a quelli da 8 bar